La sicurezza ai tempi dei social e del cittadino che si organizza e fa da sé sono due aspetti che raccontano quanto anche nella piccola Umbria la sensazione di insicurezza supportata da casi reali di delinquenza stia prendendo piede. In mezzo le forze dell'ordine nel loro instancabile lavoro di controllo del territorio che a volte con organici non sempre rispondenti alle reali necessità sfruttano anche la creatività. L'ultimo caso due giorni fa un furto a costacciare ed un appurello di fossato di Vico. Entrambi nel pomeriggio di ieri hanno fatto scattare la caccia all'uomo fuggito con un Alfa Romeo Giulietta di colore grigio. I carabinieri pattugliano la zona per poi decidere di inviare un messaggio tramite whatsapp a tutti i contatti utili dei cittadini che risiedono nell'Eugubino Gualdese per avere informazioni da chiunque possa fornirle. L'incipit del messaggio è fate girare utilizzando la vecchia tecnica della virale catena di Sant'Antonio che moltiplica in modo esponenziale le persone raggiunte. Invito tutti a mantenere la massima calma, recita il messaggio delle forze dell'ordine e limitarsi semplicemente ad osservare ed in caso di individuazione di presunti ladri tempestivamente chiamare il 112. Il messaggio fornisce indicazioni sull'auto della fuga ma anche sui ladri. Non sono persone violente, si legge nel messaggio ma stiamo facendo tutto il possibile per rintracciarli. È questo uno dei volti di una società che si organizza partendo dalle istituzioni preposte al controllo. Esiste però anche un'altra faccia della questione, quella dei cittadini che si danno da fare per conto loro. Sono almeno 40 le persone che negli ultimi tempi, tra Gualdo Tadino e Fossato di Vico, hanno sottoscritto un contratto con l'Agenzia di Vigilanza Umbra Mundial Pol, una delle più note del settore, per vedersi controllata ogni sera la propria abitazione da una guardia giurata armata. A Gualdo risiedono in modo principale nelle frazioni di Rigali e Cerqueto, affossato nella zona Borgo. In questi ultimi tempi anche Gubbio sta incrementando il mercato con contratti soprattutto nelle zone di frazione. Ogni notte per 365 notti all'anno, compresi festivi, una guardia giurata armata passa tra le 22 e le 6 della mattina a controllare casa. Molti dei contrattisti hanno anche richiesto il collegamento del proprio sistema di allarme alla centrale dell'Agenzia, che nel caso scatti invia un suo uomo. Il costo varia a seconda della casa e del luogo dove si trova nel Fossatano sono stati stipulati contratti da 30 euro mensili. Un fenomeno in crescita che dimostra come sulla questione sicurezza le famiglie siano sempre più sensibili e persino disposte a spendere di tasca loro. Nasce anche da qui la proposta della Lega Nord di Gualdo Tadino che chiede ai comuni dell'Eugubino Gualdese di fare squadra e in attesa che il governo dia maggiori organici alle forze dell'ordine di pagare con i loro bilanci forme di controllo privato altrimenti non accessibili a tutti. Fattibile? Bisognerebbe capire se la Corte dei Conti ce lo consentirebbe, prova a commentare il sindaco di Fossato di Vico, Monia Ferracchiato, facendo notare che governare un comune impone vincoli e condizioni spesso più complesse di quanto si immagini. Grazie.